ciao a tutti ragazzi e benvenuti io sono red e oggi siamo qui sul mio canale perché vorrei fare una mini guida su come appunto cercare la storia grido di lisander è molto semplice devo dire quindi non so neanche se questa chiamarla proprio una guida o semplicemente un consiglio una minima spiegazione di come fare qui dovete semplicemente fare quello che vi dico allora dove date nelle partite private e selezionate nello standardo decaduto quindi una volta entrati nello standardo decaduto quindi fate il caricamento eccetera una volta arrivate all'interno dovete recarvi in questa posizione che adesso vi faccio vedere ecco proprio qui vicino questa cassa c'è appunto su questo scaffale questo spettro morto quindi nascosto che quasi neanche si vede cliccate appunto lo raccogliete una volta raccolto lo spettro tornate chiaramente in orbita e li dirigete la torre arrivate la torre non dovrete fare altro che girarvi verso destra recarvi alla all'hangar in pratica e andare dove c'è amanda oliday per capirci invece che appunto fermarvi da amanda oliday girate a sinistra proseguite dritto proprio come state vedendo in sovraimpressione e su questo in questo posto come vedete qua sopra c'è una un pacchetto quindi un regalo è una volta appunto preso lo spettro di prima nello standardo decaduto potrete aprire questo pacchetto quindi è un regalo quindi avete questo store molto 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 bello è molto carino secondo me anzi il mio dal mio punto di vista è proprio proprio bellino e niente ragazzi è tutto qui questo era una piccolissima guida su come fare prendere questo a store e niente grazie di essere stati con me spero che per sta piccola guida vi sia servita nel caso appunto lasciate un commento per sapere se appunto al video vi è piaciuto se vi è servito eccetera eccetera e iscrivetevi al canale se non siete iscritti e alla prossima ciao grazie grazie a tutti